Estra, come risulta dal bilancio di sostenibilità 2022, ha distribuito una ricchezza di circa 1.716 milioni di euro a beneficio di soci, personale, fornitori, enti pubblici e territori. EstraEnergie fornirà il metano anche per i prossimi tre anni alle pubbliche amministrazioni di Calabria, Campania, Lazio e Sicilia. Fra i clienti Estra anche Roma Capitale e la presidenza del Consiglio dei Ministri. Estra ha contribuito nell'ambito del programma Mosaico Verde a ripristinare due aree del Parco Mediceo di Pratolino, complesso monumentale della città metropolitana di Firenze. Interviste esclusive, video e articoli per saperne di più sulla sostenibilità di Estra. Uscirà a luglio il nuovo numero della newsletter in pronta Estra. Per iscriversi basta compilare il form nella pagina dedicata sul portale di Estra.